Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di riprendere questo volume, secondo me preziosissimo, queste memorie di Carmine Sinise quando ero capo della polizia, memorie di colui che seppe tutto. Questo è un volume pubblicato nel mio 146 e che in qualche modo abbiamo già avuto modo di sfogliarlo, di esaminarlo nella sua essenza, è un testo direi prezioso. Perché prezioso? Perché ha al suo interno tutta una serie di dettagli, di particolari, che nel mio 146 ci offrono uno spaccato direi inquietante, molto più inquietante di quello che uno si potrebbe immaginare del periodo precedente, in un periodo particolarmente denso di avvenimenti, ma anche di squilibri all'interno di quel gran carrozzone che era il regime fascista e lo stato fascista. Perché come abbiamo avuto modo di dire più di una volta, beh, i due elementi non sono esattamente coincidenti. Il regime fascista è composto dallo stato fascista più il partito, quindi è un elemento molto più ampio, molto più frastagliato degli elementi. E' sicuramente senise che in quegli anni, soprattutto negli anni di guerra, e andremo a capire in che momento egli prese le retini della polizia, in qualche modo ci evidenzia grandi aspetti, soprattutto nel rapporto con Guido Buffarini, Guidi, segretario al Ministero degli Interni e già dal 1933, quindi un elemento particolarmente contorto, particolarmente attanagliato e sappiamo come egli fu sicuramente un personaggio di grande importanza per capire quel quacervo di potere, soprattutto autoreferenziale, che fu il fascismo. Quindi siamo arrivati in questo libro, abbiamo preso questo libro veramente in maniera un po' a spizziche e bocconi, ma il mio obiettivo non è tanto quello di leggere il libro nella sua interezza, ma quello di andare a capire ogni qual volta qualcosa di interessante. Questo è il capitolo 3, il capitolo 4 e il capitolo 5, per andare a descrivere come senise si insediò all'interno del vertice della polizia e che situazione trovò. Questo è il capitolo 3, nei due capitoli precedenti faceva un aspetto introduttivo, un aspetto in cui egli si presentava all'interno di questo reticolo di cariche, di esperienze, lui che appunto aveva un pregresso nelle funzioni statali. Il titolo è Morte di Bocchini, mio colloquio con Buffarini e mio rifiuto del posto di capo della polizia. La mattina del 20 novembre 1940, verso le ore 5, fui chiamato al telefono. Gli agenti di servizio al centralino del Viminale mi comunicarono che Bocchini era stato colto durante la notte da improvviso malore e che le sue condizioni erano gravissime. Due giorni dopo, infatti, spirava. Questo evento mi addolorò assai, innanzitutto per la perdita del vecchio amico, in secondo luogo per il pericolo che io correvo di poterne prenderne la successione che io non desideravo. La mattina del 22, prima che Bocchini ispirasse, mi recai dall'onorevole Buffarini e gli tenni questo discorso. Bocchini è agli estremi e i medici hanno detto che non riuscirà a superare la giornata. Ve ne avverto perché possiate provvedere subito alla scelta del successore, non potendo in tempo di guerra restare, anche per breve tempo, vacante il posto del capo della polizia. Posso dir questo senza timore di essere frainteso, perché non solamente io non aspiro a quel posto, ma desidero vivamente di non averlo. L'onorevole Buffarini rimase sorpreso e mi disse, ma perché rifiuti? Sono due notti che non riesco a dormire, per il dolore della perdita del povero Bocchini e ancor più per il grave problema della sostituzione. Non ho trovato che una sola soluzione, che il nuovo capo della polizia sia tu. Tu non puoi rifiutare, ma dimmi almeno le ragioni del tuo rifiuto. Ecco, risposi io, il posto di capo della polizia è desiderato da tutti per due ragioni, perché ha molta importanza e perché vi si amministrano fondi assai rilevanti, senza che se ne debba rendere conto a nessuno. La prima cosa mi lascia completamente indifferente perché io non ho avuto mai ambizioni personali, né mi solletica la prospettiva di finire un giorno senatore del regno. Se avessi figliuoli potrei avere per loro, non per me, vanità di questo genere. Non avendone ed avviandomi alla vecchiaia, la prospettiva di morire da senatore è perfettamente identica a quella di morire senza esserlo. Quanto poi ai fondi di cui disporrei, è noto che non mi sono mai approfittato di un centesimo che non mi spettasse e quindi anche da capo della polizia farei lo stesso. Siccome non tutti la pensano come me e aspiranti non ne mancano, voi potete fare felice un altro e accontentare anche me. Una cosa vi chiedo ed è di dispensarmi anche dalla funzione di vice capo e di lasciarmi compiere da prefetto a disposizione i 35 anni indispensabili servizio per poter liquidare il massimo della pensione. Buffarini insistette con tutte le sue arti suasive e la sua intelligenza. sentite, gli dissi io, la mia nomina non conviene né a voi né a me. Io vi debbo confessare che non sono stato mai fascista, neanche antifascista, mi sento soltanto un servitore dello Stato e non ho che un credo il giuramento prestato allorché entrai nell'amministrazione e al quale soltanto ho tenuto e tengo fede. Ho servito tutti i governi che si sono succeduti al potere, sono stato nei gabinetti di Giolitti, di Salandra, di Orlando, di Nitti, di Bonomi e di Facta. Ho servito da vicino uomini di governo dalle tendenze politiche diverse e questo è potuto accadere perché sentivo di servire soltanto lo Stato. I governi sono per me un fatto transitorio, perciò ho servito e servo il governo fascista non perché io sia fascista e pensi di servire al regime, ma unicamente perché Mussolini è al governo del mio paese. Se domani soggiunsi testualmente e remettessi al posto del governo fascista un governo comunista, continuerei a fare il mio dovere anche con tale governo, così come l'ho fatto sempre. Tale essendo la concezione che ho del mio dovere è evidente che se dovessi essere capo della polizia non ammetterei alcuna ingerenza del partito nelle cose della polizia. sarei soltanto un esecutore della legge, non mi presterei mai ad abusi a danno di nessuno e direi sempre la verità allo stesso capo del governo, e questo piace meno a Buffarini, poco curandomi delle osterità dei potenti gerarchi del partito. Perché mi volete mettere nei guai? Avete detto di non avere stima della capacità degli altri aspiranti? Ebbene, c'è il prefetto di Roma, Maglio Presti, che non si è fatto avanti. So che ne avete un ottimo concetto e anche io vi voglio molto bene, gli voglio molto bene perché è un galantuomo. Facciamo così. Proponete al capo del governo la sua nomina e per agevorare il compito farò il sacrificio di continuare a esercitare le funzioni di vice capo. Puesse essere più accomodante? Buffarini non si persuase. Per lui non c'era altro che io potessi fare il capo della polizia. Non sapendo più a quale argomento appigliarmi, dissi chiaro e tondo, a conclusione del mio pensiero, che se per ipotesi un giorno il re avesse deciso di defenestrare Mussolini e mi avesse dato l'ordine di arrestarlo, avrei eseguito l'ordine io stesso senza tentennare tale essendo il mio dovere. Non si capisce se questa era una minaccia o una propessa. Molti soggiunsi che hanno fatto come me i capelli bianchi al servizio dello Stato la pensano come me, ma non avrebbero il coraggio di dirvelo. Io non voglio ingannare nessuno e vi apro il mio animo. Dopo ciò che vi ho detto mi pare che non vi resta che scegliere un altro capo. Sarà bene per voi e per me. Potei parlare così apertamente perché Buffarini, a parte tutto il male che di lui si poteva e si può dire, era, ripeto, davvero intelligente e con gli intelligenti si può parlare chiaro. Non avrei potuto fare lo stesso con tutti. Credevo di aver trovato l'argomento irrefutabile. Invece Buffarini si alzò dal tavolo, mi gettò le braccia al collo e mi disse che dopo le mie parole più che mai era convinto che solo io potevo fare il capo della polizia. Che la mia ipotesi di un dissidio fra la corona e il duce non si sarebbe mai verificato, che quindi i miei scrupoli non avevano ragione di essere. Che per il resto egli era pienamente di accordo con me e non desiderava affatto un capo della polizia che si fosse messo al servizio del partito, appunto per carità di Dio, certo che bate retro Satana. Che tale era sicuramente anche il pensiero del capo del governo e che quindi egli si sarebbe recato subito a lui per sostenere la mia candidatura. Debo dire che in queste sue dichiarazioni Buffarini era sincero per la sempre ragione che tra i sottosegretari di Stato all'interno e i segretari del partito non è mai corso, buon sangue, gelosi come erano l'uno dell'altro. Infatti come se l'ho detto tanti segretari del partito Buffarini aveva fatto defenestrare e tanti ne avrebbe fatti defenestrare. I sottosegretari non potevano mai tanti, due prima e due dopo, però diciamo che lui sia sopravvissuto a questi è sicuramente molto. I sottosegretari non potevano mai desiderare un capo della polizia che avesse fatto causa comune col partito, certo, perché questo avrebbe costituito un grave pericolo per la loro personale stabilità e allo stesso capo del governo non poteva dispiacere che il capo della polizia non fosse legato al partito. In generale non era difficile sorprendere la buona fe di Mussolini, ma su certi punti, specialmente su quelli che potevano interessare la sua persona, egli era molto diffidente. Che la polizia andasse di accordo col partito stava bene per lui, ma tra un eccessivo accordo e il disaccordo preferiva questo secondo male. Non si sa mai. Capitolo quarto. Mia nomina a capo della polizia primi dissensi con Buffarini. Due ore dopo il nostro colloquio Buffarini mi telefonò da Palazzo Venezia e mi disse di raggiungerlo alla casa del povero Bocchini, che intanto era aspirato. Appena giunsi mi abbracciò e mi annunziò che il capo del governo aveva già deciso la mia nomina. Mi invitò poi a salire nella sua macchina e al Viminale, dove convocò subito tutti i direttori generali del ministero e il prefetto di Roma, dopo una breve commemorazione di Bocchini annunziò che il successore ero io. Aggiunse che il comunicato sarebbe stato dato dopo il fuori di Bocchini, ma che intanto egli aveva voluto rendere la notizia di pubblica ragione anche per creare il fatto compiuto di fronte ai numerosi aspiranti e ai loro patrocinatori. Una novità vi sarà conchiuse Bocchini con mia meraviglia, ed è che Senise non si chiamerà capo della polizia come Bocchini, ma assumerà l'antico titolo di direttore generale della pubblica sicurezza. Sarà un atto di cameratismo verso tutti i direttori generali del ministero, senza dire soggiunse che a Bocchini il titolo di capo della polizia era stato dato come personale riconoscimento dei grandi servizi resi in un lungo periodo di tempo. Scomparso lui non c'era motivo per decampare dalla antica consuetudine. Finiva il virgolettato. Lo scopo che Buffarini si ripromotteva con quel cambiamento di titolo era evidente. Egli aveva sempre mal tollerato che la polizia fosse sostanzialmente indipendente dal sottosegretario di Stato e che il suo capo avesse rapporti diretti con Mussolini. Il capo della polizia infatti veniva personalmente ricevuto al capo del governo senza intermediari di sorta perché il ministro era sempre Mussolini. E a Mussolini spediva ogni sera tramite la segreteria particolare un corriere contenente oltre ai suoi appunti che dovevano essere decisi al capo del governo i più importanti rapporti provenienti dalle zone dell'ovra, dai prefetti e dai questori nonché le più rilevanti informazioni confidenziali della giornata. La retrocessione da capo della polizia direttore generale nelle intenzioni dell'onorevole Buffarini doveva essere dunque un primo parso verso la eliminazione di quei diretti rapporti che estromettevano il sottosegretariato dal più importante ramo di servizio dell'amministrazione. Non avere alcuna ingerenza diretta sulle cose della polizia, specie sul servizio informativo, costituita una vera diminuzio capitis del sottosegretario di Stato. Non fosse altro che per la impossibilità nella quale veniva a trovarsi di dispensare grazie agli amici e vendette ai nemici. Buffarini, grande smaneggione. Morto Bocchini, che aveva saputo salvaguardare la sua indipendenza, Buffarini che aveva di me conoscenza il tutto superficiale, credette che fosse venuto il momento di affermare la sua supremazia anche sulle cose della polizia. Dovette presto accorgersi che si era ingannato. Se infatti nella riunione dei direttori generali io, sorpreso com'ero, dovetti per evidenti ragioni tacere, l'indomani gli parlai chiaramente a quattro occhi. Voi siete molto intelligente, gli dissi, ma io neppure sono scemo. Veramente adoperai un aggettivo meglio appropriato, di pura marca napoletana. Voi avete annunciato ieri che il capo della polizia sarebbe divenuto un semplice direttore generale e io in presenza degli altri ho dovuto tacere. Ma oggi vi dichiaro che a queste condizioni il posto io non l'accetto. Voi sapete benissimo che non lo desideravo e sono ben disposto a liberarmene. Con quel cambiamento di titolo voi diminuite, abbassate l'importanza dell'intera organizzazione fino a ieri preeminente su tutte le altre dell'interno. Tutta la polizia se ne sentirebbe colpita. Non si tratta dunque della mia dignità personale, ma di quella dell'intero corpo. Perciò non posso transiggere e preferisco andarmene. Tuttavia, poiché oramai voi vi siete pubblicamente sbilanciato e fareste una cattiva figura a rimangiare tutto, per salvare capre e capoli vi propongo l'accomodamento che con decreto legge all'attuale denominazione di capo della polizia si sostituisca quella di direttore generale capo della polizia. Fermi restando il rango e le attribuzioni del grado di quest'ultimo. L'essenziale in quel momento era di salvare il rango. Di fronte alla mia risurutezza, Buffarini dovette cedere e mi assicurò che avrebbe predisposto il decreto legge come avevo proposto. Il venerdì successivo, giorno fissato per le udienze del capo del governo, avrei dovuto presentarmi a Palazzo Venezia, ma la mattina di buon'ora mi telefonò Sebastiani, allora segretario partituale dell'ex duce, si riferisce al 46, e mi disse che essendovi quel giorno i funerali di Bocchini nel suo paese nativo di San Giorgio al Sannio, sarebbe stato conveniente in omaggio alla sua memoria procrastinare la mia presentazione al capo del governo. Veramente non riuscì a comprendere in qual modo avrei potuto arregare offesa alla memoria del mio predecessore, recandomi a Palazzo Venezia. Pensai perciò che si trattasse di una manovra concertata tra Buffarini e Sebastiani, allora strettamente legati fra loro. Il successivo contegno di Buffarini me lo confermò, perché l'indomani mi disse che voleva avere il piacere di fare lui la mia presentazione al capo del governo e che saremmo andati insieme a Palazzo Venezia. Era un alto espediente per ritardare la presentazione, allo scopo evidente di arrivare d'accordo con Sebastiani a togliere al nuovo capo della polizia il privilegio di quei diretti rapporti col capo del governo che turbavano i sottosegretari. Infatti i giorni passavano e io non venivo mai presentato. Una mattina disse a Buffarini che io non potevo alla fine fare la figura dell'ineducato e che se l'indomani egli non mi avesse accompagnato dal capo del governo mi sarei presentato da me. Fatto sta che tornando da Palazzo Venezia mi disse che il duce mi ha detto che non occorre la mia presentazione perché già ti conosce, ti aspetta domani. Capitolo 5. Mio primo colloquio con Mussolini da capo della polizia. L'indomani il capo del governo mi accolse assai affabilmente, dissi in sostanza anche a lui quello che avevo già detto all'onorevole Buffarini, che come funzionario dello Stato non ero né fascista né antifascista ma soltanto un esecutore della legge, che questo avrei osservato di fronte a tutti i fascisti e non fascisti, che come funzionario dovevo obbedire a lui capo del governo ma non mi sentivo disposto ad alcun'altra soggezione in specie a quella del partito. Pure questo per me è musica per le orecchie Mussolini. Infine che avrei fatto sempre il mio dovere e gli avrei detto sempre la verità anche se sgradita, virgolette. Specialmente allora dovete dirmela, mi interruppe, soggiunsi che questo mio programma non sarebbe piaciuto a tutti e che avrei incontrato molte ostilità. Lo pregavo quindi di tenere ciò presente quando gli sarebbero andati a parlare contro di me. Del resto, conchiusi, voi potete sostituirmi senz'altro per qualsiasi motivo. Senise mi rispose, apprezzo molto i vostri propositi e sono sicuro che lavorerete lungamente con me e avrò sempre a lodarmi di voi se vi attaccheranno e non vi difenderò io. Adesso, concluse, vi dovete presentare a Sua Maestà, chiedete quindi l'udienza. Ebbe l'impressione forse non errata che quell'invito non mi fosse rivolto a caso ma avesse qualche relazione con le dichiarazioni da me fatte a Buffarini a proposito dei rapporti tra re e duce. Mi presentai pochi giorni dopo a Sua Maestà. Il sovrano ricordava mio padre che fu Garibaldino, professore all'Università di Napoli, deputato e senatore. Ricordava mio zio Carmine che fu l'anima della cospirazione del 1860 della Basilicata contro i Borboni e fu poi prefetto e senatore del Regno. Si degnò di trattarmi assai benevolmente. Quando mi licenziò lo assicurai che avrebbe potuto contare in qualsiasi evento sulla mia fedeltà. E con queste parole che Senise ci riporta, dei suoi contatti, dei suoi abboccamenti rispettivamente reiterati con Buffarini, con Mussolini e con Vittorio Emanuele III, vi direi di chiudere qua. Premesso che onestamente non possiamo prendere tutto quello che lui ha dichiarato per orocolato, anche perché, come dicevo, questo lui lo scrive nel 1946, quindi diciamo che Buffarini è già morto, Mussolini è già morto, Vittorio Emanuele III è in esilio, quindi in qualche modo, se andiamo a vedere qua, qui, prima edizione novembre 1946, quindi è in esilio pure Umberto II, quindi in qualche modo diciamo che le ragioni per in qualche modo un po' accomodare la versione dei fatti è sicuramente a suo favore, però ciò non toglie che sicuramente è un prezioso documento, come dicevo, che in qualche modo ci va a integrare tutte le fonti che abbiamo a disposizione, e in parte che già abbiamo anche considerato nei video di questo canale. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!